Seconda guerra punica. L'esercito cartaginese trascorre l'inverno tra il 218 e il 217 a.C. a Piacenza. Annibale ha guadagnato alla sua causa varie popolazioni celtiche promettendo loro grandi vantaggi dalla sconfitta di Roma. Molte tribù hanno fornito contingenti e mezzi ma la loro fedeltà è fragile. Annibale ne prende atto di persona aggirandosi tra le truppe in incognito. Anche per questo affretta la marcia verso sud ma nella valle dell'Arno esondato a causa delle intense piogge si aprono vaste paludi veicolo di pericolose infezioni minacciose per i soldati e per lo stesso generale.